Stiamo andando da Napoli, stiamo andando a Firenze per domani, domani c'è la giornata delle liste civiche, liste 5 stelle, quindi domani saremo tutti là. Posso anche dire sì a fatto che venga data la possibilità al movimento di esprimere non solo il proprio programma, ma le proprie idee di poterle portare avanti. Cosa per me è fondamentale che il movimento non serva solo per portare dei voti ad Italia dei Valori e che invece venga data questa possibilità fondamentalmente. È ovvio che laddove, ti faccio un esempio, se sei in Sicilia, oltre me Italia dei Valori dovesse candidare, faccio dei nomi, Rita Borsellino, Camilleri, ovvio che io ritirerò la mia adesione a questa candidatura, perché non serve a nessuno ammazzarsi di grande stima sia di Camilleri che di Rita Borsellino, per cui già per me uno dei due andrebbe bene, non avrebbe veramente senso e anzi io a questo punto continuerei ad adoperarmi non quanto ho fatto fino adesso, probabilmente il triplo con l'obiettivo di contribuire a far crescere il movimento delle liste civiche, il movimento dei grilli e per poter arrivare ad essere indipendenti da tutti, poter cominciare ad incidere nella vita di questo paese. Se effettivamente la candidatura viene posta appunto come mezzo per far crescere tutto il movimento per far crescere noi, ben venga. Se invece appunto viene vista come l'ennesimo contenitore che può portare voti, ovvio che questo non farebbe bene né a me né al movimento dei grilli. Fondamentalmente ci sono tante possibilità che possono starci dietro questa cosa, come per esempio quella di estranearmi da un contesto, un contesto nel quale io mi sento assolutamente a mio agio, mi sento forse anche forte, sarei ipocrita se me lo dicessi comunque io nel mondo dei meetup, nel mondo delle liste civiche mi sento totalmente a mio agio, è un po' casa mia e quindi forse potrei potrei costituire, potrei essere un granello di sabbia e un ingranaggio. Di sicuro parlerò dell'esperienza che abbiamo avuto in Sicilia, parlerò dell'esperienza straordinaria che ho avuto in questi due anni in giro con i meetup, fondamentalmente parlerò anche di queste mie perplessità e farò presente che se non c'è una compattezza, io vorrei un po' richiamare all'unità il nostro movimento, perché tutti quanti hanno capito il potenziale che il movimento potrebbe avere, scusate il gioco di parole, l'unicità a non averlo capito siamo soltanto noi, che continuiamo a dividerci, continuiamo a farci la guerra, l'uno con l'altro continuiamo a fare una scanna, invece in questo momento io credo che il movimento per crescere, per crescere bene, abbia bisogno fondamentalmente di unione, di condivisione di percorsi e anche di responsabilità, perché non è più il momento di dire vabbè vai tu che noi siamo con te, è arrivato il momento appunto di condividere tante responsabilità. Ma guarda io ho la consapevolezza che probabilmente il mio nome è uscito fuori perché posso essere il tramite tra i meetup, posso essere il tramite con questo mondo, il problema sta a noi, se abbiamo la consapevolezza, una volta che abbiamo preso atto di tutte queste cose saremo in grado di non essere ostaggio, di riuscire ad agire per poter ragionare al meglio in questo contesto e tra virgolette anche per poter sfruttare al meglio questa opportunità. Chi mi critica? Io credo che le critiche se sono costruttive ci stanno tutte. Sul metodo, sul metodo della scelta? Ma io non so, credo, avrei molto con piacere il mio posto perché comunque sono 12 anni che giro tutta l'Italia e questa campagna elettorale potenzialmente mi porterà fuori altrettanto. Per cui se ci sono persone che all'interno del movimento possono dare un contributo, non dico tanto quanto il mio, ma addirittura una giornata ben venga, io mi batterò finché come pensi che si possa dare visibilità anche ad altri? Se non cresce il movimento non crescerà nessuno, il punto è questo, dobbiamo cercare di capire questo, non devono crescere le singole persone, quello che io ho detto sin dall'inizio è stato proprio questo, ho detto ragazzi, benissimo, io sono consapevole del perché è arrivata la scelta sul mio nome, poi voglio dire, io in Sicilia con i meetup di Grillo e con la lista civica abbiamo raccimolato 70.000 voti, Di Pietro si è congratulato immediatamente, per questa vittoria tra le virgolette, ha anche detto cerchiamo di vedere, di non disperdere questo patrimonio di voti. Considerato che abbiamo fatto quell'esperienza che ha portato appunto 70.000 voti, Di Pietro è ritornato su questo argomento offrendo la possibilità di utilizzare il contenitore di Italia di Valori e di arrivare al loro prezzo. A questo punto l'obiettivo, il mio obiettivo non è quello di essere eletta, perché ogni obiettivo è tantissimo, il mio obiettivo è benissimo, è un po' una candidatura al servizio, non di servizio, al servizio del movimento. Allora io dico, se la mia candidatura viene vista in questa maniera, cioè con la possibilità e la consapevolezza di far crescere, che viene utilizzata affinché cresca un movimento, allora avremmo capito benissimo e allora riusciranno a fare qualcosa e cresceranno tante altre persone. Il mio obiettivo è proprio quello, quello di far crescere il movimento, non crescere sogni a fare, perché non ha senso, io posso scegliere altri percorsi per crescere, sono 12 anni che parlo con la gente, che parlo nelle scuole e da tanto. Io invece scelgo questo percorso per far crescere un'idea politica che non significa solo essere partecipata dal basso, ma che dia alle persone, che faccia assumersi delle responsabilità, che devono partecipare e che devono fare delle scelte, che devono assumersi delle responsabilità. Cioè il fare politica attraverso la delega è la cosa peggiore, è quello che ci ha portato in queste condizioni. La gente oggi si deve impiegare tutta, se non si riesce a capire questo, non si va oltre. Allora se cresce il movimento, io sono un idealista, mi piace pensare che fra 4 anni il nostro movimento possa esprimere delle persone straordinarie che ci sono, con delle capacità e con delle tecnicità incredibili, che possa esprimere delle politiche. Io sono molto franca e molto diretta, il mio obiettivo è proprio quello, poter far crescere questo movimento e poter far arrivare persone che possano dire la loro e possano incidere nella politica di questo paese, altrimenti sarebbe tutto fino a se stesso e noi sappiamo benissimo, siamo accusati di essere pressapoglisti qualunque politici, populisti, gente che sta dietro il computer. Allora cerchiamo di dimostrare fondamentalmente a noi stessi che noi non siamo questo, forse viviamo, ci siamo conosciuti attraverso il mondo virtuale, ma è opportuno che adesso si vada oltre, che adesso si vada a parlare con le persone e attraverso le liste civiche comincia ad essere costruito, venga tracciata una strada, quella è la cosa per me fondamentale, la cosa più importante. Grazie Sonia, grazie a voi, buon proseguimento dedicato, anche a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.